partete al comando Moncrown con all'esterno Chief Stormigal quindi Galimar segue Assevio ancora Lanciastratos Smidolf quindi Poronia Leonardo e gli altri dopo circa 500 metri di corsa in vantaggio si è sistemato Moncrown al suo esterno si mantiene sempre Chief Stormigal a precedere Assevio in quarta posizione all'interno Lanciastratos con all'argo Galimar quindi per linee interne segue Poronia seguita ancora da Leonardo Lignos Smidolf quindi ancora Celtic Master Milby e gli altri siamo ora all'imbocco della curva con Chief Stormigal che si presenta ai fianchi di Moncrown i due sono apparegliati al comando seguiti da Assevio che ha all'esterno Lanciastratos e Galimar quindi per linee esterne risale anche ora o mai più siamo in all'ingresso della retta di arrivo con Moncrown allo steccato Chief Stormigal al suo esterno tra i due e cerca spazio Assevio più a largo figura Galimar a centropista Smidolf sta passando ora per linee interne Rai Song nei confronti di Chief Stormigal quindi Smidolf lungo la corda ha trovato il barco anche Sharp of Dubai Rai Song è attaccato ora a fondo da Charm of Dubai che passa ora in leggero vantaggio c'è lotta ma Charm of Dubai ha preso un leggero margine e sul palo Charm of Dubai si impone su Rai Song al terzo posto risale Silver Eyes su Chief Stormigal e Milby